Buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV anche in questo 31 dicembre 2021 che si apre in questa edizione con i dati di giornata per quanto riguarda il contagio in Friuli Venezia Giulia ancora aumento per i positivi sono stati 2.361 quelli registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 25.642 tamponi salgono di due unità recovery in terapia intensiva sono 28 e di 5 quelli negli altri reparti sono 287 complessivamente il rapporto tra contagio e tamponi è del 9,2% da registrare altre 4 vittime che portano il bilancio a 4.213 mentre salgono a 12.205 le persone in isolamento 1.517 in più rispetto a ieri per quanto riguarda poi il contagio tra il personale sanitario decine e decine di casi tra le varie aziende del Friuli Venezia Giulia così come altri 10 contagi tra gli operatori delle case di riposo nessuno fortunatamente tra gli ospiti ed è un aumento in Italia la tasso di occupazione delle terapie intensive al 12,9% rispetto al 10,7 di ieri passeranno nel frattempo in zona gialla da lunedì prossimo anche Lombardia Piemonte Lazio e Sicilia che andranno ad aggiungersi dunque a Liguria Marche Veneto Friuli Venezia Giulia le province autonome di Trent e Bolzano e la Calabria già in giallo dalla scorsa settimana il Friuli ancora da prima per quanto riguarda poi gli operatori dicevamo continua ad aumentare anche il numero di positivi sul fronte di infermieri medici personale sanitario e per favorire il capodanno più possibile in sicurezza oggi un'iniziativa particolare è stata lanciata da Palmanova la Croce Rossa italiana dalle 8 e 30 fino alle 18 e 30 metterà a disposizione gratuitamente tamponi rapidi e preservativi a tutti coloro che si recheranno nella sede di Viale Taglio non serve prenotazione il tampone non genera green pass base ma una misura di sicurezza per coloro i quali stasera andranno ad affrontare cenoni e serate in compagnia tra l'altro le 12 di oggi risultavano già 140 i test effettuati con una decina di casi di positività le parole del presidente del comitato locale della Croce Rossa a Dennis Raimondi al microfono di Monica Nardini dalla mattina e proseguirete per la giornata state offrendo dei tamponi rapidi e gratuitamente anche dei preservativi come sta andando? Allora sta andando molto bene siamo circa 140 test fatti con una positività riscontrata che si aggira intorno all'8.5 per cento e c'è un'ottima adesione stiamo tenendo bene anche le liste d'attesa perché l'evento è stato organizzato senza prenotazione gratuito aperto a tutta la popolazione e siamo anche soddisfatti del tipo di accesso che abbiamo avuto molti giovani che hanno in programma di festeggiare la serata e che sono venuti anche in gruppo a fare il tampone per poter fare festa in sicurezza. Quindi al momento in quattro ore sono state rilevate una decina di positività con grande amarezza anche per esempio tra parte di alcuni ragazzi che proprio vanno in programma una serata quindi sventati anche dei piccoli focolai? Esatto abbiamo sventato anche dei piccoli focolai perché sono comunque dieci positività che avrebbero sviluppato altri contatti e quindi avrebbero dato adito alla nascita di nuovi contagi. Proseguirete con i tamponi rapidi fino alle 18 e 30 si è parlato molto anche dell'affidabilità dei tamponi rapidi cosa se la senti di dire in tal senso? Allora questi tamponi sono tamponi forniti dalla Croce Rossa a livello nazionale hanno un'attendibilità dichiarata dal fornitore del 98 per cento e sono arrivati proprio ieri questo tipo e sono di ultima generazione. Abbiamo potuto vedere che laddove c'erano contatti stretti la positività coincideva per entrambi le persone o anche per l'intera famiglia quindi diciamo che l'attendibilità su questi numeri attualmente fatti l'abbiamo riscontrata anche noi c'è il tampone di cui ci si può fidare. Vi proporrete questa iniziativa? Allora vediamo che cosa accadrà nei prossimi giorni se ad esempio per l'epifania le manifestazioni verranno aperte ci saranno pensavamo di fare qualcosa in prossimità dell'epifania altrimenti per il momento ci fermiamo ci fermiamo qui. Chi avesse in mente una cena in famiglia tra amici questa sera ricordiamo quali sono i sintomi per cui preoccuparsi ed eventualmente decidere di rinunciare alla sera? Allora i sintomi influenzali che sono quelli del naso che cola, del mal di gola, della febbricola assieme anche al vomito, la diarrea, alla cefalea sono tutti quanti sintomi che dovrebbero far pensare alla persona di starsene tranquillo a casa e di non frequentare altre persone. Nel frattempo a Udine sono comparse stamattina nuove scritte Novax, l'ennesima volta quella registrata appunto durante la notte tra ieri e oggi sono comparse lungo i muri perimetrali di via chiusa forte nei pressi dell'ospedale Santa Maria della Misericordia ad accompagnarle l'immancabile simbolo della W cerchiata. Si tratta grossomodo dell'ottavo atto vandalico avvenuto nel capoluogo udinese. Il direttore generale dell'azienda sanitaria Friuli Centrale, Denis Caporale, ha condannato l'episodio. In relazione a queste scritte ingiuriose apparse oggi nei pressi del Dipartimento di Prevenzione, la direzione aziendale condanna ancora una volta tali atti che sono diventati sempre più frequenti e ormai li possiamo considerare vera e propria violenza ai danni degli operatori e del sistema sanitario. I dati e la scienza unico vero riferimento in materia sanitaria parlano chiaro e la campagna di vaccinazione ne è l'ennesima conferma. In ASUFC al 30 dicembre nei reparti di terapia intensiva, semintensiva e malattie infettive, i ricoverati sono 61, di cui 39 non vaccinati. Inoltre la percentuale dei ricoverati non vaccinati è calcolata su una popolazione di gran lungo ormai inferiore a quella dei vaccinati e tra i ricoverati vaccinati gran parte di questi è ricoverata non per motivi legati al Covid. Nel frattempo arriva il via libera dall'AIFA a due nuovi farmaci antivirali dal 4 gennaio, poi alle regioni saranno consegnati per la somministrazione. Aumentano le armi dunque a disposizione per combattere il Covid. Aumentano le armi a disposizione per combattere il Covid. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato due antivirali Molnupiravir e Remdesivir per il trattamento di pazienti non ricoverati con malattia lieve e moderata che si è manifestata da pochi giorni e in presenza di condizioni cliniche che rappresentano specifici fattori di rischio per lo sviluppo della malattia grave. Il Molnupiravir sarà distribuito dalla struttura commissariale alle regioni dal 4 gennaio e per la sua prescrizione è previsto l'utilizzo di un registro di monitoraggio. Si tratta di un antivirale orale il cui utilizzo è indicato entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento, che consiste nell'assunzione di 4 compresse due volte al giorno, è di 5 giorni. Per il Remdesivir è stata recentemente autorizzata da EMA un'estensione di indicazione relativa al trattamento dei soggetti che non siano in ossigenoterapia ad alto rischio di covid grave. Il farmaco può essere utilizzato fino a 7 giorni dall'insorgenza dei sintomi. La somministrazione avviene per via endovenosa e la durata del trattamento è di 3 giorni. Anche per questa nuova indicazione è previsto l'utilizzo di un registro di monitoraggio che è già accessibile sul sito dell'agenzia. C'è poi da affrontare il tema della scuola, la ripresa delle elezioni e gli accorgimenti per contrastare il covid. Sono stati al centro di una riunione tra i ministri Bianchi e Speranza e il governatore Fedriga in rappresentanza delle regioni italiane. Qui si cerca di alleggerire anche il mondo della scuola sul fronte di protocolli e quarantene garantendo le elezioni in presenza. Ci spiega tutto Francesca Santoro. Mentre esilita il 10 gennaio la riapertura delle scuole in Abruzzo, le misure di contrasto al covid nelle aule sono state al centro di una riunione a cui sono intervenuti i ministri all'istruzione e alla salute Patrizio Bianchi e Roberto Speranza, oltre a Massimiliano Fedriga in qualità di presidente della conferenza delle regioni. Un'occasione per ribadire come per il governo sia prioritario a tutelare la scuola in presenza con le regioni che hanno proposto nuove norme sulle quarantene degli studenti. Alla luce dell'avvio della campagna vaccinale per i bimbi tra 5 e 11 anni, si chiede di estendere anche a scuole elementari e prima media, nel caso di due studenti positivi in una classe, solo l'autosorveglianza di 5 giorni per i vaccinati e la quarantena di 10 con DAD e test al termine dell'isolamento per quelli che non lo sono. Nelle scuole dell'infanzia invece resterebbe la quarantena di 10 giorni per tutti con tampone con un solo caso positivo e prioritario ridurre l'area dei non vaccinati e allargare anche quella dei vaccinati per non sovraccaricare gli ospedali. Ha rimarcato Speranza, che ha sottolineato anche di considerare molto seriamente sia l'estensione dell'obbligo vaccinale a tutti che quella del Green Pass rafforzato al mondo del lavoro. Da parte sua il governatore Fedriga ha definito un incontro molto costruttivo per le ipotesi di intervento avanzate per alleggerire anche il mondo della scuola sul fronte di protocolli quarantene e tamponi. Si tratta di proposte tecniche che vogliamo approfondire per proteggere gli ospedali gravati sempre più da ricoveri, ha spiegato Fedriga, e permettere una ripresa dell'anno scolastico in presenza, considerando l'andamento della curva epidemica che appare trainato proprio da una progressione importante nella fascia che va da 6 a 13 anni. Tra l'altro poco fa ha parlato nuovamente anche il sottosegretario della Salute, Costa, che ha spiegato c'è un'ipotesi di estendere il super Green Pass già allargato con l'ultimo decreto del governo a diversi settori, potrebbe essere introdotto anche in alcuni luoghi di lavoro per frenare l'infezione. Inoltre è detto che una riflessione sullo smart working a questo punto sarebbe necessaria. La cronaca ora, un uomo di 62 anni è precipitato attorno alle 13.30 di oggi mentre percorreva il sentiero 806 sul versante sud del Colle dei Larici in comune di Verzegnis, nella zona di Sella Chianzutan. Sul posto si sono attivate, allertate dalla Sores, le squadre del soccorso alpino di Forniavolti, della Guardia di Finanza e l'elissoccorso regionale. L'uomo è stato recuperato in gravi condizioni poco fa. A raggiungerlo è stato l'equipaggio a bordo dell'elissoccorso calato sul posto con un vericello. Prima è sbarcato il tecnico e poi con una seconda vericellata anche un medico e un infermiere di bordo. È stato necessario compiere una seconda rotazione per prelevare al campo base anche due soccorritori in più per aiutare nelle operazioni di imbarrelamento il ferito che ha fermato la sua caduta in un canale di neve su un terreno esposto e impervio. Gravi, dicevamo, le condizioni dell'uomo precipitato per un centinaio di metri dopo aver oltrepassato un pendio roccioso. Al campo base di Sella Chianzutan è stato sbarcato e consegnato poi a un'ambulanza per essere stabilizzato e riconsegnato all'elicottero diretto al Santa Maria della Misericordia. Si tratta di un 62enne nato a Frosinone ma sulla sua attuale residenza ancora non si sa nulla. Concluso l'intervento i due compagni di escursione dell'uomo hanno richiamato l'112 dicendo di non sentirsi in condizioni di proseguire e la Sores ha rimandato sul posto l'elicottero della protezione civile per prelevarli con il supporto sempre del soccorso alpino. Incidente nella notte a Mortegliano sull'ex provinciale che porta Chiasielli su una fuoriuscita autonoma con un'auto che è finita ruota all'aria. Al volante una giovane donna a soccorsa dei sanitari del 118 è stata portata in ospedale. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Udine per la messa in sicurezza dello scenario dell'incidente. Un'altra auto è stata trovata ribaltata in comune di Povoletto sempre nella tarda serata di ieri con un incidente velato da un pizzico di mistero perché all'interno non c'era nessuno. Sono stati trovati anche dei seggiolini per bimbi nel retro della vettura. Fortunatamente poi è stato accertato che i piccoli stavano bene ed erano con la mamma. A proposito di strade, dal 1 gennaio 2022 non scatenarono aumenti dei pedaggi sul 98% della rete autostradale nazionale. L'unico adeguamento riguarda la tratta della A21 gestita dall'autovia Padana S.P.A. quindi solo 105 km su un totale di oltre 6.000 e naturalmente tra le tratte in cui non scatterà l'aumento anche quelle di autovie venete e di autostrade per l'Italia in Friuli Venezia Giulia. Anche per il 2022 dunque vengono confermate le tariffe vigenti per le quali però è in corso un aggiornamento e una revisione del rapporto concessorio. Ogni valutazione sarà applicata esclusivamente alla definizione dei nuovi contratti che dovranno recepire regime tariffario previsto dall'autorità di regolazione dei trasporti. Fine anno ancora bilanci. In queste giornate vi stiamo portando ai nostri microfoni diversi consiglieri di opposizione che hanno analizzato il bilancio dell'attività della Giunta a Fedriga. Oggi è il turno di Furionsel. Che voto possiamo dare all'attività del Consiglio regionale in questo 2021? Su 10, 4. Effettivamente la Giunta ha avuto a disposizione risorse straordinarie, ha avuto l'eliminazione di tutti i vincoli che ci avevano invece talmente soffocati in tutti gli anni precedenti e non ha progettualità. E proprio questo denaro viene sparpagliato in mille rivoli senza nessuna chiarezza di strategia, sostanzialmente solo per in qualche modo guadagnare i consensi. Dunque un bilancio molto negativo sull'ambiente. Siamo la regione che ha una delle qualità dell'aria peggiori. Si continua solo a versare decine di milioni sulla benzina agevolata perché questo chiaramente dà consensi. Quindi sull'ambiente veramente anche 4 sarebbe troppo. 3. Guardi anche la questione del fotovoltaico. Noi rischiamo di avere un ulteriore consumo di suolo per mettere fotovoltaico quando abbiamo, ripeto, 100 km2 che è il doppio della superficie della città di Udine di aree militari dismesse che nessuno utilizza. Poi sul tema della sanità è molto grave il fatto che non vengono fatte assunzioni. Ormai ci troviamo di fronte al fuggi-fuggi di tantissime persone che vanno in pensione o addirittura si dimettono e non riusciamo a recuperarle. Ci deve essere probabilmente qualche motivo sul fatto che c'è così poca attrattività del nostro sistema sanitario. Per quanto riguarda invece il 2022, professore, i principali obiettivi da raggiungere quali saranno secondo lei? Beh, guardi, innanzitutto noi abbiamo cercato soprattutto di rendere coerente il PNRR con quelle che sono le attività diciamo previste e su questo appunto c'è il nulla, quindi pungoleremo su questo tema. Poi appunto ribadisco il tema dell'ambiente, noi abbiamo una legge che appunto dovrebbe gettare le basi per pianificare qualunque azione di riduzione delle emissioni e quindi veramente che possa rendere sostenibile questa nostra regione. Questa legge l'abbiamo presentata ancora prima che iniziasse questa tremenda pandemia, ma non è ancora stata portata in aula, quindi chiederemo come prima cosa in gennaio di portarle in aula sperando che non venga bocciata. Osser, siamo a fine anno, 31 dicembre, che augurio fa al Friuli Venezia Giulia, ai nostri corregionali? Di essere sempre se stessi perché questo Friuli Venezia Giulia ha dei grandi valori di serietà sul lavoro, ma di aprirsi. Una cosa non deve essere se stessa, deve fare più squadra. Nel frattempo sono già iniziati nel mondo i festeggiamenti per il nuovo anno, i primi come al solito i residenti, Nuova Zelanda, queste le immagini che arrivano da Oakland, il Ponte del Porto e la Sky Tower illuminate con diversi colori, niente balli in bianco sulla famosa spiaggia invece di Copacabana a Rio de Janeiro, niente festeggiamenti nemmeno a Trafalgar Square a Londra, così come niente spettacoli di luci sugli Champs d'Elysée, il countdown di Times Square a New York contingentato, fuochi d'artificio a Sydney tra tamponi e limitazioni. Il mondo alle prese con l'impenata dei contagi, spinta dalla variante Omicron, cancello taglia i festeggiamenti per il nuovo anno. Noi naturalmente vi terremo compagnia stasera su Dinese TV con due appuntamenti a partire per quanto riguarda la prima serata alle ore 21 con uno spettacolo della The Groove Factory e a seguire con gli auguri bianconeri del nostro Poma. Eccoli qua gli appuntamenti a partire dall'ora 23 e 30 per trascorrere la mezzanotte assieme. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con l'informazione alle 19, a più tardi. Grazie. Grazie.